La classe editori è una casa editrice che ha diversi mezzi, testate giornalistiche, periodici, quotidiani, televisioni e anche una divisione eventi. Per classe editori l'evento è una sorta di media, noi realizziamo manifestazioni di ampio spettro, da quelle rivolte agli studenti come sono nello studente a quelle rivolte all'alta finanza o piuttosto al settore della moda come il Global Fashion Summit. Per classe editori l'evento è un media, noi lo organizziamo, lo produciamo però poi ci appoggiamo anche ad agenzie di eventi per strutturare insieme ai partner dell'agenzia di eventi la possibilità di ideare progetti specifici BTL all'interno della nostra manifestazione. Sono nello studente, è un salone che conta numeri impressionanti perché facciamo 200.000 partecipanti sulle 6 tappe che sono Milano, Roma, Bari, Firenze, Piscara e Monza e quindi noi portiamo il pubblico all'interno della nostra manifestazione e poi con l'agenzia di eventi strutturiamo progetti di comunicazione ad hoc. Le prossime tappe sono a Roma, anzi prima viene Bari a metà ottobre alla Fira del Levante e poi Roma che è il nostro salone più importante che facciamo in Fira di Roma a metà novembre. L'agenzia che ha un cliente che ha necessità di entrare in contatto col pubblico, col target specifico che sono ragazzi 18-19 anni e deve ideare un'attività che gli permette al cliente di entrare in contatto con questo pubblico si può rivolgere a noi perché noi il pubblico ce l'abbiamo. Insieme possiamo strutturare dei progetti di comunicazione, questo è il tipo di collaborazione che noi con l'agenzia andiamo a realizzare.